Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare City of Mist, edizione italiana a cura di Isola di Elyon, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia omaggio e soprattutto perché abbiamo iniziato la collaborazione, quindi grazie ragazzi è un onore di avere questa possibilità di collaborare con voi. City of Mist è un gioco che fa della narrazione, il suo punto di forza, veramente il suo cardine, ed è un gioco le cui meccaniche non avevo mai trovato in nessun altro GDR, neanche quelle del tipo perché poi alla fin fine, come poi vi spiegherò durante il corso del video, si parla sempre di cose nascoste, di cose mascherate, c'è un po' il concetto di Masquerade che si ritrova, se vogliamo, anche appunto in Vampiri la Masquerade. Però ha delle meccaniche tutte sue che secondo me sono veramente particolari ed intriganti, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Come detto, City of Mist nella sua edizione italiana a cura di Isola di Illion è un manuale di 500 pagine ed è un manuale veramente grande, come potete vedere qua giù, a parte il disegno che c'è davanti, colorazione e tutto quanto, tipo noir, mi piace da morire qui in mano su all'Edi 6 perché praticamente il funzionamento del gioco è tutto su due dadi da 6, e è veramente grande, corposo, immenso e tra l'altro rilegato bene perché ci sono a volte dei manuali che compriamo e li apriamo su un tavolino e si sente già il primo scricchiolio e magari dopo un tot di volte iniziano a partire le pagine. Questo invece è rilegato talmente bene che non si rischia anche aprendolo completamente, non si rischia di rompere nulla. Ed è un gioco molto interessante perché è ambientato in una fantomatica città, City of Mist è unicamente per come viene conosciuta questa città che poi tutti chiamano appunto Appellano come la città. E il gioco stesso ci dice questa è una città che non esiste però la potete ambientare nella città che volete, potrebbe essere ambientata a New York, potrebbe essere ambientata a Firenze, potrebbe essere ambientato magari a Los Angeles, quindi la città ve la inventate voi che può essere una città reale o di vostra invenzione. E il manuale ci viene incontro dandoci ad esempio molti spunti per creare anche i soborghi, per creare anche i quartieri di questa città, perché l'idea principale per come il manuale te la fa presente è la città di New York, immensa, grande, dove si può trovare di tutto, Central Park dove ci sono molte influenze etniche, quindi il quartiere magari cinese, il quartiere magari italiano, quindi una città multietnica come possiamo vedere in tanti romanzi oppure anche in tanti film o serie televisive, mi viene in mente la prima cosa da citare per un'ambientazione del genere, Sin City sarebbe veramente perfetta. Ed è una città in cui voi sarete una persona comune, poi ovviamente il background potete scegliere voi, potete essere un lavoratore, potete essere un agente di polizia, un investigatore privato, potete essere quello che volete, il manuale non ti dà una limitazione che sia una, potete essere anche un politico, potete fare quello che volete, però siete una persona comune che all'interno ha un mitoi. In questa ambientazione i mitoi, i mitos, appunto il singolare mitoi, è qualcosa di leggendario, è una presenza leggendaria che non si sa perché, alleggiano tutto intorno a questa città completamente avvolta dalla nebbia e questi mitos non sono divinità, non sono poteri, non sono reliquie, sono tutto, qualsiasi cosa che vi abbiate in mente. Ad esempio il manuale ci fa tantissimi esempi dove il mitoi di una persona potrebbe, di una persona comune come ripeto, potrebbe essere ad esempio Don Quixote, o dall'altra parte potrebbe essere invece il dio Anubi come divinità egizia, quindi può essere o qualcuno potrebbe avere un mitoi, un mitos, li chiamo così mi viene anche meglio, qualcuno potrebbe avere un mitos sotto forma invece di reliquia. Quindi magari lui personalmente non è stato, tra molte virgolette, posseduto da un mitos, ma magari ha Excalibur, la spada di Rear 2, o qualsiasi altro oggetto del genere. Quindi è bello come ambientazione perché voi partite con la storia di un personaggio comune, di una persona comune, che piano piano inizia a capire i suoi poteri e inizia a sfruttarli, però sfruttarli sta a voi, perché anche nella creazione del personaggio, che ora vi faccio vedere, potete scegliere se tenere più attiva la figura, che poi è una dualità, del Logos, che il Logos è la vostra vita comune, quindi magari un detective, il lavoro che state facendo, oppure dare il libero sfogo, il libero arbitrio soprattutto, alla parte mitos. Però, come un po' nel concetto di vampiri, che se ti dai troppo alla bestia, alla fin fine impazzisci, e di conseguenza perdi il personaggio, che passa nelle mani del Game Master, del Dungeon Master come PNG, ti puoi decidere di tenere una delle due strade, e se segui troppo quella del Logos, della tua vita comune, magari finirai per perdere i poteri e dimenticartene. Se seguirai troppo quella del mitos, impazzirai, diventerai completamente avvolto dal tuo mitos, dimenticandoti della tua vita terrena. Quindi devi sempre riuscire a tenere la giusta via di mezzo, e il manuale con le regole ci viene in conto, ad esempio ci dice, vuoi fare un personaggio dormiente che non sa nulla? I dormienti sono un po' i babbani, per farvi capire delle lamentazioni di Harry Potter. Oppure vuoi essere un novizio, un iniziato quindi, che è molto più legato al Logos che non al mitos, oppure vuoi essere qualcuno che invece è particolarmente legato al mitos e non al Logos. Quello comunque spetta assolutamente a voi. E lamentazione, poi vi faccio vedere un po' il manuale, è molto interessante perché la città inventatevela voi, ma con le regole che ci dà il gioco, ci fa capire che bene o male nell'idea del creatore del gioco è quella di una metropoli immensa, è quella di una New York. Quindi voi dovrete creare il vostro personaggio affidandogli abilità, affidandogli poteri, e la cosa bella di questa ammettazione, per quello vi dicevo che mi ha rimandato molto al Vampire de Masquerade, della White Wolf, perché quando voi andrete ad utilizzare i vostri poteri da mitos, o una reliquia, o un qualsiasi altra cosa, comunque legata alla figura del mitos, quindi alla figura mitica, che si è legata ovviamente al vostro personaggio, al Logos, verrete sempre avvolti da una nebbia, o quello che vi sta intorno verrà avvolto da una nebbia. I dormienti, le persone comuni, che anche loro domani si potrebbero risvegliare come voi, però non potranno mai avere accesso e vedere quello che fate. Ad esempio, se uno come potere ha quello di sputare le fiamme, perché anche i poteri ve li inventate voi, ha quello di sputare le fiamme come un drago, magari la persona che sta passandoli accanto vedrà esplodere la cucina di un ristorante e uscire vampate di fuoco, oppure magari rompersi una tubatura dal pavimento e iniziare a uscire tanto fumo. Questo perché questa nebbia fa di tutto per tenere segreti i poteri dei mitos. Ad esempio, un altro, quello più bellino, forse più calzante, che mi viene in mente in gioco è che un personaggio, un PNG, che vi fanno l'esempio nel manuale, viene chiamato Excalibur e quando va in battaglio comunque a combattere ha un'armatura luccicante e tutto quanto e la spada Excalibur, fiammeggiante di R2 e magica. Quando usa quest'arma, la gente comune la vede come se fosse un ombrello. Magari, visto che è un poliziotto o una cosa del genere, l'armatura che è addosso invece lo vede come un giubbetto antiproiettile da polizia. Questa nebbia qui mistica fa di tutto per celarvi, quindi le persone normali dormienti, anche se voi combattete con i vostri poteri mitos, non riusciranno mai a vedere niente. Anche uno semplicemente con la super velocità e che fa un salto di 20 metri da un tetto a un altro, da un edificio a un altro, la gente comune magari lo vedrà saltare con un aliante o qualcosa del genere, oppure semplicemente lo vedrà soltanto alla fine del salto senza aver capito come ha fatto a saltare da un punto a un altro. La nebbia fa sempre di tutto per coprirvi dai dormienti, ma non solo, per coprirvi anche fra mitos. Perché se io sono un mitos che usa i miei poteri contro un altro mitos, io magari sono il dio Nubi e di là c'è il dio Zeus, ad esempio, e ci lanciamo fulmini e saette, anche fra di noi non riusciremo a vedere questi poteri, non riusciremo a vederli sempre e non se non entriamo in totale sintonia col mitos, a quel punto riuscendo un po' a penetrare quella nebbia che ci avvolge tutti e due e sarà possibile anche iniziarci a vedere per la nostra vera forma, ma sempre con l'allerta e l'attenzione di perdere il nostro personaggio, perché siamo arrivati ormai troppo in contatto col mitos, dimenticandoci del tutto della nostra vita terrena. Praticamente l'esempio più calzante che mi viene è Batman. Alla fin fine Bruce Wayne è Batman. Batman e Bruce Wayne, dopo tanto tempo nei fumetti di Miller ci viene fatto presente che ormai la figura in costume è Bruce Wayne, non è più Batman, perché lui ormai è Batman. Lui tiene Bruce Wayne soltanto per i suoi lati privati, ma più che altro nemmeno tanto per la vita privata, a livello economico, di tutte quante le sue imprese, aziende e quant'altro. Quindi nel 99% dei giorni lui è sempre Batman. Ogni tanto si ricorda di avere una vita normale e torna a essere Bruce Wayne. Ecco, qui è quello che state rischiando. con la differenza che perderete proprio di tutto il PG. Ovviamente non c'è unboxing perché è soltanto al manuale, ma vi faccio un po' vedere qualche immagine dentro che poi è veramente fatto da paura. Manuale bellissimo, guardate tipo il disegno, la colorazione e qui si vede un detective o comunque sembra qualcosa, comunque c'è una macchina a volante della polizia e qua sotto il riflesso nell'acqua è normale, quindi è un dormiente di sicuro e vediamo come vi ho detto prima una ragazza che dovrebbe essere la detective in Kidu seguendo le regole del gioco e vedete che ha in mano mazza da baseball o qualcosa del genere mentre invece sotto un'armatura, un elmo con delle corna e una spada. Mentre invece quest'altro ragazzo qui sembra una specie di topo o qualcosa del genere sembra un po' il maestro splinter del Trattorughe Ninja perché in questo gioco ragazzi non è che siete posseduti da divinità potete essere quello che vi pare addirittura uno è posseduto cioè ha il mito posseduto e brutto Don Quixote un altro ha scelto Raperonzolo un altro Geppetto potete essere chi vi pare potete essere sia voi il mitos che anche oggetti voi potete essere una persona comune però che magari come vi ho detto ha una mazza da baseball che la gente vede come una mazza da baseball ma che in realtà è la spada magica di R2 il manuale ragazzi è veramente immenso è impossibile farvelo vedere tutto ci vorrebbero 50.000 video ma guardate che cavolo di figata ci sono anche i fumetti che tra l'altro raccontano la storia di questa detective ma non solo e vi danno anche un po' di idee per crearvi il personaggio e i disegni cioè guardate voi se non sono veramente qualcosa di stupendo tutto ovviamente colorato digitalmente e la verità ovviamente voi siete sempre alla ricerca della verità perché la domanda principale penso se la farebbe chiunque ma perché ho i poteri del dio Anubi o del dio Ade? Perché ho la spada di R2 sì ho capito poi tutti i giorni diventa una cosa comune utilizzarla quando ci avrete fatto ovviamente il callo mettiamola così però uno vorrà sapere da dove arrivano questi poteri o perché il mito si ha scelto voi il risveglio andando avanti vi fa vedere i quartieri che i quartieri che ci sono nel manuale vi consiglio di usarli tutti ma non perché magari quelle che inventate voi saranno più belli nella vostra città però vi crea una città polivalente c'è tutto c'è il classico molo c'è l'una park c'è la spiaggia c'è il quartiere italiano magari c'è il quartiere orientale con la mafia cinese ad esempio magari c'è un altro tipo di quartiere dove c'è il distretto di polizia vi crea la classica città dove ci sono opportunità per tutti ad esempio c'è anche Central Park per questo vi ho detto che ricorda molto da vicino New York e qui fa vedere ancora fumetti che servono a morire perché ti calano veramente tanto nell'ambientazione e il gioco è il detective Enkidu e il gioco di base ragazzi è un noir investigativo non lo prende sì è pieno zeppo d'azione è pieno zeppo di combattimenti ma deve essere quello che l'ha scritto l'ha pensato per essere un gioco noir di investigazione perché la domanda principale è appunto investigare su di voi però anche investigare su tutti gli altri mitos che ci sono appunto nella città e mia moglie tra l'altro ha scelto di essere anche lei un detective della polizia anche perché un pochino poi ce l'ho indirizzata è a dirla tutta creazione del personaggio che è una parte che non vi voglio mettere paura ma piglia tipo 200 pagine la creazione del personaggio però occhio questo manuale di 500 pagine per me è un manuale di 120 perché è tra 100.000 virgolette logorroico le stesse cose te le spiega 100.000 volte ma logorroico in senso positivo le cose te le spiega bene te le spiega tante volte e magari in altri esempi più avanti ti riprende una regola vecchia rispiegandotela ancora una volta quindi è vero ho visto recensioni di chi dice è grandissimo 500 pagine secondo me in 200 sarebbe andata bene uguale perché appunto ti spiega le cose molto più dilazionato mettiamola così e quando si va a creare il personaggio qua giù col fulmine vedete sono tutti quanti i tratti dei mitos e poi dall'altra parte ci sono anche i tratti dei logos che potete scegliere successivamente per creare un personaggio dovete scegliere che poi vi faccio vedere la scheda in fondo 4 tratti se fate un personaggio legato al logos 1 del logos e 3 del mitos se fate un personaggio completamente rapito dal mitos 3 del mitos e 1 del logos un personaggio invece equilibrato che vuole tenere sia la vita di tutti i giorni che appunto la figura leggendaria del mitos 2 e 2 e dovete scegliervi i punti di forza e i punti di debolezza ad esempio di adattamento voi dovete sempre andare a prendere gli attributi di forza la prima la A dovete sempre per forza prenderla quindi leggete la domanda date una risposta e quella risposta diventa il vostro attributo di forza e poi ne potete scegliere due di tutte queste altre che sono scritte qui ovviamente ogni volta dovete sempre prendere 3 attributi di forza e uno invece di debolezza che non può essere la A può essere la A la B la C la D quello dovete sempre scegliere solo la A dell'attributo di forza lo dovete sempre scegliere e mettiamo caso un personaggio che ha 3 mitos e uno invece del logos si sceglie tutti quanti i suoi tratti e poi vedete quassù deve dare tipo illusione ad esempio il tratto che ha scelto l'identità un titolo una cosa del genere un motto o quello che ti sta guidando praticamente qual è il tuo mistero da seguire e i 3 attributi di forza come vi ho detto dove la A deve essere sempre presente e l'attributo di debolezza le regole del gioco ci dicono che quando si va a fare una prova si tirano sempre 2 di 6 questi sono tutti i dati di cui avete bisogno per giocare è un gioco narrativo si tirano 2 di 6 e da seconda della prova che è andata a fare date dei più i più possono venire dai tratti ovviamente che i tratti e gli attributi di forza che avete sono dati o dai tratti mitos o logos che avete scelto o anche dall'equipaggiamento ad esempio si va a fare un combattimento corpo a corpo io ho l'abilità marziale che ne so kung fu vi faccio l'esempio e ho anche un'abilità che dice combattente nato quindi ne ho 2 e prenderò 2 punti quindi andrò a tirare di 6 più 2 ovviamente dicendo che combatta a mani nude senza sparare con la pistola la pistola non mi serve a niente il bonus non me lo prendo magari come terzo tratto ho anche super velocità una cosa come flash può servire in un combattimento direi di sì quindi voi andate a tirare i 2 di 6 che ho fatto 6 ci aggiungete i vostri punti di forza attributi di forza che potete usare per quella prova e se fate da 1 a 6 prova fallita da 7 a 9 prova superata ma con demalus quindi comunque siete riusciti a fare quello che volevate ma ne avete avuto anche qualcosa contro sparo al tizio per ammazzarlo ok sei riuscito a colpirlo non mortalmente però lo stendi però lui allo stesso tempo ti spara e ti beccano una gamba se fate 10 o 11 successo critico quindi avete fatto quello che volevate fare punta e basta senza ripercussioni se fate 12 o più avete fatto un successo mastodontico che oltre a aver fatto quello che vi eravate prefissati di fare è successo anche qualcos'altro ma occhio perché a volte vi vengono incontro anche gli attributi di debolezza ad esempio un attributo di debolezza potrebbe essere zoppo claudicante quindi in un combattimento mi viene incontro questa cosa qui è certo è claudicante in un combattimento se sei zoppo è normale che ci avrai qualcosa che non va quindi lo dovete togliere dagli attributi di forza invece di averci 6 più 3 avrò 6 più 2 perché questo mi va a scalare 1 tiro e guardo cosa viene le regole ragazzi sono 10 milioni questo veramente vi ho detto non per cento comunque la regola principale per tutte le volte che c'è da fare un check è questa poi ci vengono incontro altre regole che ad esempio ci dicono invece di andare a tirare i dadi hai successo automaticamente non è un successo critico è come aver fatto un 10 però hai successo automaticamente nella prova che volevi fare però se ad esempio stavo sparando con la pistola la pistola dopo che hai beccato il tizio in testa l'hai cecchinata ed è morto si inceppa quindi per una sessione due sessioni o fino a che non la ripari non potrà più essere usata oppure lancio una palla di fuoco talmente potente da distruggere quello che dovevo distruggere quindi senza tirare i dadi successo assicurato però quel potere non lo posso più usare è svanito l'ho sprecato talmente tanto ci ho buttato talmente tanta energia che quel potere è andato a svanire e beh non male ragazzi le regole per fare le prove sono queste però ci vorrebbero tanti di quei video per spiegare questo manuale che ve lo giuro ci vorrebbe veramente una serie intera di video quindi la maniera migliore per farvelo vedere a parte ora che ve ne ho parlato un pochino è quello di farci una partita con mia moglie così vedete bene o male come funzionano le regole e qua giù in fondo ma che poi trovate anche scaricabili direttamente dal sito dell'isola di Ilion ci sono la scheda del personaggio le carte tag queste qui che servono per segnare i vari bonus e malus che potete prendere nel gioco le schede tratti perché dovete segnarci ovviamente tutti i tratti che avete e in questo gioco per passare di livello ci sono tanti modi ma nel 99% dei casi per passare di livello quando utilizzate o di vostra volontà o perché lo dice Dungeon Master un tratto di debolezza quel tratto di debolezza che è rischiato di farvi fallire una prova ci dovete mettere sulla scheda tratto un trattino accanto quando tutte quante le caselle che sono 3 o 4 non mi ricordo sono riempite le cancellate tutte e praticamente avete la possibilità di fare un level up quindi dalle vostre e dai vostri errori imparate a migliorarvi se devo dare un voto a City of Mist gli do assolutamente ora ve la motivo un 10 su 10 uno originalissimo ora a livello di ambientazione ni perché comunque è molto particolare ganza però sono cose che non mi hanno fatto gridare cioè alla genialata si perché a me mi piace anche vedere tante regole prese da tante parti tante ambientazioni messe insieme per un prodotto nuovo mi sta bene o non potrei adorare Dead Space che è una copiatura forzata di Alien e di tante altre cose e quindi sì per me ce l'ho vista l'ammettazione genale però ammetto anche che non è una cosa innovativa quasi per niente perché venendo da vampiri insomma non è che ho tutti i giochi della White Wolf non è che mi fai impazzire gridare al miracolo comunque per come è stato messo insieme nel pacchetto ci sta veramente la paura le regole sono molto interessanti non lo trovo un gioco prettamente per giocatori Dungeon Master alla prima armi assolutamente qui ci vuole un gruppo ben affiatato visto che parte della narrazione va anche in mano ai giocatori perché i giocatori si possono inventare dei flashback e sono nelle regole ad esempio siamo in un locale io sono un detective e vedo entrare la figura che voglio arrestare faccio un esempio no? sono lì però dico oh cavolo pensavo fosse solo per quanto ho i miei poteri da mitosi e tutto quanto pensavo fosse solo è entrato con tre scagnozzi e li vedo sotto le giacchette delle pistole nelle fondine e io so soltanto la mia pistola faccio ma ce la faccio da solo un rischio di morire allora come regola mi posso inventare ovviamente il Game Master deve essere d'accordo il flashback il flashback e dico ok due ore prima parlando col Dungeon Master avevo messo in allerta la squadra della SWAT della polizia guardate io fra due ore sono al ristorante se vedete arrivare il tizio vi mando un messaggio oppure col cerca persone e voi intervenite il Master mi dice si va bene lo puoi fare e allora in quel momento che le vedo entrare tutte e quattro arriva la SWAT e mi dà manforte quindi è un regolamento geniale nel suo cioè ci ho visto veramente tante cose però dovete essere molto affiatati perché si rischia veramente di rovinare completamente una partita se non siete quel gruppo di giocatori che non più che affiatati coordinati e coesi per portare avanti una storia comune e che sia credibile soprattutto e poi vabbè tanto dall'altra parte del tavolo c'è sempre Dungeon Master che ti dice no stosa non si fa e magari te la stronca e va bene però comunque non è secondo me un regolamento per persone alle prime armi ma se siete giocatori Dungeon Master che cercano qualcosa di alternativo e secondo me anche unico avete trovato veramente il gioco che fa per voi il manuale è bellissimo i disegni bellissimi tradotto veramente da paura impaginato da paura bello resistente l'aprite lo aprite in tutte le maniere non si staccano le pagine non si rompono e poi i disegni ci sono dei fumetti dentro cioè i disegni che ci sono dentro sono degni veramente del miglior disegnatore sulla faccia della terra bellissimo quindi un 10 su 10 meritatissimo ricordo che se lo volete acquistare primo link in descrizione da Board Game Discount che trovate giochi di ruolo e giochi da tavola e migliori prezzi sul mercato e io ringrazio Isola di Ilion per avermi offerto questa copia per la recensione ragazzi veramente grazie per aver creduto in me per avermi dato questa possibilità e grazie veramente di cuore quanto prima registreremo anche un video una partita con mia moglie che si è già creata il personaggio non vogliamo fare spoiler anche perché il primo video sarà proprio dedicato a parlare del suo personaggio e tutti quanti poi i nostri social a seguire quindi primo link per acquistarlo e tutti i nostri social ciao ragazzi alla prossima